Adesso c'è la zona dove ci sta un solo player mi sa, preparati, cerca di starci dentro Guarda, 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 guarda No, 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 no Benvenuti in uno dei tanti video folli che stiamo cercando a fare in questi giorni Allora, vi spieghiamo subito Siamo in un match privato, ce l'hanno dato ovviamente a disposizione gli sviluppatori Quindi siamo soltanto con i nostri iscritti, con i consolini Esatto E abbiamo un obiettivo quest'oggi Quest'oggi vogliamo vedere qual è la zona più piccola in cui si può sopravvivere a livello di safe zone Andando avanti nel game E soprattutto, quanti di noi 100 riusciranno a star dentro le ultime zone? Pensate a un cerchio minuscolo con 100 player che cercano di stare dentro e che non ci stanno Gente che si spinge di tutto Se verrà rispettato sarà un qualcosa di fantastico Ovviamente abbiamo chiesto a tutti quelli che sono entrati di non sparare, di non usare le armi, eccetera, eccetera Perché altrimenti sarebbe impossibile Se tutti rispetteranno questa cosa sarà fantastico Fere, che succede da te? Sono circondata almeno da 40 player che mi danno picconate Io sono inginocchiata in terra ed è terribile Mi stanno tutti ballando nelle vecchie Contando che ho chiesto di essere pacifici non è la miglior situazione Io purtroppo non ho visto la scena Ma è stato molto divertente Te la dovevo far vedere perché è stata molto molto bella È perché te riconoscono dalla skin Io l'ho appena cambiata con quel dinosauro E quindi non mi riconoscono Ho visto un video, io non so se era fake Ma se è tutto vero Ok La zona può diventare Cioè ci sta un solo personaggio dentro Ma davvero? Ma davvero? Un solo personaggio dentro Io non so Oh sarebbe bello Io non so se quel video era fake Non lo so Ma se è vero è fantastico Bello Se è vero è fantastico Sarebbe molto bello Adesso vedremo perché sinceramente non è che ci si arriva giustamente Andiamo a scoprirlo È una delle tre foglie che vogliamo fare Gli altri due vedremo se riusciamo a farle Saranno comunque tutte divertenti E se funzioneranno ne faremo davvero tanti in questo periodo Quindi preparatevi consolini perché potrete far parte di video completamente assurdi Io ovviamente mi prendo qualche arma per sicurezza Comunque ti devo dire una cosa brutta Dimmi C'è già stata una uccisione quindi Sì? Sì Un omicidio Fere? Sì Eh sì 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 Vedo gente che sta ammazzando altra gente Noi stiamo un po' per i cavoli nostri e speriamo che venga rispettato Eh ma forse se stanno facendo così forse non l'hanno proprio capito Capisci? Non lo so Fere Stanno uccidendo L'unica cosa che noi possiamo fare è per ora sopravvivere e stare dalle nostre parti Tranquilli Io direi magari di prendere un'arma di difesa Sì 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 Io l'avevo già presa Ok Comunque già dato Tenuto in conto Che qualcuno potesse non rispettare Anche se poi quando si è stretti è davvero difficile capire chi Chi spara Se uno spara in quel momento parte il delirio Bene c'è un player Vediamo se è tranquillo Io salto Aspetta salte No balla Ciao 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 Ok ci vuoi bene ma questo mi sa che è Leonardo Pro King Vero? Che ha giocato Come fa a ritrovarci sempre? Ha giocato con noi qualche game che purtroppo è andato male e non siamo riusciti a pubblicare Lo so E credo sia lui Però secondo me è lui Dalla skin da quel piccone Esatto mi ricordo che ha il piccone identico al mio e poi abbinato a quella skin da e non penso che ce ne sono altri Perché non possiamo parlare con i player che giocano con noi? Li direi seguici Però Leonardo seguici Vieni Così siamo in cinque Siamo già un po' più tranquilli Esatto vieni Sì lui è bravo dai Vieni con noi Leonardo dai Io comunque ho 600 massi Cioè se mi sparano facciamo fortezza Io vabbè ne ho pochi Comunque ricordati il nome Italia Fresh Italia Fresh brutta persona O magari non ha capito Però brutta persona nel dubbio E anche Gastis Gastis Vabbè magari questo si sta difendendo da qualcun altro adesso Quindi non possiamo sapere Però Italia Fresh ne ha seccato tipo cinque Quindi su di lui ho pochi dubbi Ok È che noi non vediamo i nomi degli avversari Ne ha freddato Quindi come fai a capire chi è Italia Fresh Quando lo vedi È una sfida Dove tu ti puoi sparare Guardali 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 Ciao Oh ciao Balliamo Adesso ci sparano perché ci riconoscono secondo me No eh dai no Qualcuno potrebbe Questo con la pistola in mano non mi piace Amico Togli la pistola Uè 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 Chi è Chi è Steph Non lo so Qualcuno appena ha buttato uno Tu continua a ballare Fai capire che sei contro queste cose C'è Italia Fresh Di nuovo? Perché Italia Fresh ho visto che ha buttato giù qualcuno Quindi sembra lo stesso degli spari Ok Però lo stanno arrestando eh Dai ma magari stanno scherzando Ma era Italia Fresh? E che ne so Comunque siamo tantissimi È bellissimo Ok Oh la zona è già piccola comunque Quindi Siamo vicini Dai ce la possiamo fare Dai comunque tutti insieme Ecco che balliamo Cioè guardate Ciao a tutti Le intenzioni del game si capiscono Oh 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 No 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 Le granate non sono buona idea No No Fermi No io capisco Ho capito che siete felici Però siate meno felici Le esplosioni fanno male Meno felici ragazzi Poi stanno smantellando la città Michele Palermo ha finalmente eliminato Sì 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 I Palermo Italia Fresh è tornata alla carica Mamma mia Porca mia 86 però è buono Vi prego Seconda zona chiusa Oh 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 Mi stanno prendendo a picconate qua eh Calmi Calmi Sparano Dai vi prego Non rovinate tutto all'ultimo Vi prego Da dove? Calmi Mi stavano sparando Steph Devi starmi più vicino Eh mi stavano sparando Non so se mi hanno Mi hanno diciamo evitato di proposito Però Siamo abbastanza vicini ai Palermo Eccoli qua Perché vedo che Eccoli qua Ti hanno sparato? Sì Da dove? Da dietro Quindi io mi sono fatto a muro Vediamo se la smetto Perché sennò qui mi devo girare e ucciderli Ti stanno sparando? Eh ancora no Ancora no Quindi Ok Però qualcuno sta uccidendo qualcuno Quindi no Consulina 23 17 più Che bell' Povera Mamma mia la lag Oh Calmi Tutti con le armi No Calmi Non fate i muri Vi prego Raga un delirio E tutti dietro al muro Eh ma poi ci speriamo tutti dietro al muro Prima questo Dimmi Una lag impossibile Ne vado tutti scappare Guarda 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 Che delirio Guarda che cavolo di delirio Non chiudetevi nei muri Non voglio stare a chiudere i muri Perché siete tutti un po' assassini oggi eh Mi fate Oh hanno tramutito Bravo Bravo Ok guarda la nuova zona Ok ci siamo Cioè non che sia felice che veniate uccisi Ma se uccidete un po' Ve la cercate insomma Ok Steph Ci stiamo Non mi ballate nelle orecchie che poi non sento Steph Grazie Ok Ok Sono molto agitata eh Anche io Ma hai avuto così tanta ansia in un game Dimmi Il problema è che non posso stare avvicinata Perché ho il plotone che mi segue Si lo so è delirio Perché te riconoscono a me con questa skin un po' no Ho trovato il modo Ho trovato il modo Aspetta aspetta Così non mi riconoscerà più nessuno Hai peggiorato Non sono Fere Hai peggiorato Mi stanno dabbando in faccia Boom Chi era? No dabbando Ho sentito un colpo di scudo Ah non l'ho sentito No Un tipo è appena caduto Ma povera Super Tom Qualcuno lo faccia tornare in vita Ok È morta un sacco di gente da caduta Hanno fatto un suicidio di massa Eh perché stanno costruendo costruendo Quindi magari poi ci cascano da soli Nuova zona che si chiude Guardate quanto è piccola Guardate quanto è piccola Siamo in 70 Ok Guarda c'è Cos'è? Vento da te Steph Cos'è questo game? Cos'è questo game? È completamente epico Completamente epico Sento gente che spara Non mi piace Dai che siamo alla fine Chi è? Chi è? Chi è? Non lo so Steph È impossibile da capire Michele Palermo ha tramortito Ti hanno preso Ti hanno preso Steph? Sì Eh No Calmi tutti Ti ho detto Ti giuro sparami un altro hit Tanto ti ho visto Ah quelli che sono con noi Stanno panicando in una maniera Cioè che io non davvero È indescrivibile Poverini Urlano cose Sinceramente non riesco C'è qualcuno che spara da sopra Secondo te? Perché c'è gente che si sta buttando col trampolino No forse Dai ragazzi Guardate Ultimissima zona Ci siamo quasi Sessanta bastano Quindi Forza Andiamo Lì c'è qualcuno morto Il problema adesso Italia Fresh ha così fatto esplodere Lo sapevo che dovevo fanachilarlo Il problema è che mi avrebbero Dai Vai da bravo Che ansia È sempre peggio Oh 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 Schivali Schivali Fasce Proprio il pompa no Che mi fa one shot Posso accettare di prendere un hit In modo tale da poi coprirmi Fere qua stanno sparando Sì Qua c'è delirio Sì Qua c'è delirio Guarda Si uccidono tutti E non ci fanno vedere l'ultimo inciso Cosa sto vedendo Che cosa Stef? Guardo sta crollando gente Fere Aiuto E poi Basta Non sei simpatico Calmi Io vedo gente che spara da altri Eh, sì che li vado Ho ammazzato un tipo Mi ha sparato quattro volte, basta Eh, lo so Mi spiace ragazzi Ma se vi comportate così dobbiamo reagire Perché Siamo alla fine Non si può Non si può Non ho ammazzato a piccone Che succede a te? Io non so più dove sei C'è follia Ma sei sotto? No, sono sopra Sto scendendo perché se qualcuno butta giù tutto Siamo morti Esatto Bisogna scendere Quello che ti sto dicendo Scendi giù Ok C'è un trampolino qui Secondo me No No, non sparate No Mamma mia Cioè guardate Perché non riesco a non ridere Perché mi fa troppo ridere la situazione Dove sei Stef? Sono qua Sono qua Scendi giù Scendi giù Ok, ok È iniziata la guerra Mi sa che è iniziata la guerra Alessio Palermo E sono arrivati Palermo anche qui Fere Si sono scatenati Non so Che quelli chiami Palermo C'è sarà Perché vengono da Palermo Alessio Palermo Sono tutti Si chiamano Alessio Michele Tutti così Quindi Sono Alessio e Michele Finito Saranno due fratelli Aspetta Siamo nell'ultimissima zona Stef Vieni Che vuoi fare? Ma Stef Li stai uccidendo tutti È nel dubbio Però ho sbagliato Gente Non mi sparate Ragazzi state fermi È l'ultima zona Ce l'abbiamo quasi fatta Dove sono quei cavolo di Palermo? Non lo so Io sono in continuo movimento Per cercare di non farmi uccidere Con picconate Slash cecchini Slash altri fucili Calmi Questa sta cecchina Questa fianco a me Calmi È ormai andata Non si capisce più chi sono Siamo nella mini zona Stef Allora tanto qualcuno muore anche di zona Bene questo sta col pompa che mi mira Non so se ammazzarlo No vattene 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 Tu salta sempre Stai in movimento E lasciali perdere Che ti devo dire Eh ma se mi prendi in testa è la fine Eh lo so Aiuto Stanno incastrando qua Toglietevi Accidenti a voi Ecco qua Sono calma Io sono sotto Stef Perché non trovo mai Palermo Ma trovo altra gente? Chi sta sparando Scusami Non lo so Io sparo ogni volta Quelli che sparano a raffica Ma non sono mai Palermo E la fine Calmati Fere mi ha beccato Anche a te? Sì Eh Alessio Palermo L'ho beccato Basta Deciso? Sì Basta Brava Fere Eh però poi mi stanno a mirare Ovviamente Perché poi non capiscono Che si chiama Vabbè dai Comunque No comunque Michele Palermo Ti ha buttato giù a te Ok mi stanno arrestando Quindi almeno io forse Dovrei riuscire a rimanere E un tutti contro tutti Guarda guarda la zona Guarda la zona Deve andare più avanti Fere No No Guarda la zona comunque Com'è piccola Steph L'hai vista? Sì Vabbè pazienza Pazienza L'abbiamo vista L'abbiamo vista La mini zona Steph Guardate Non si vede nella mappa Non si vede nella minimappa Abbiamo ancora 29 player vivi Con i Palermo Che continuano a fare una strage Eh vabbè ci sta Creeper è vivo Però non sappiamo dov'è Nascosto Eh è questo qua Questo col fucile a pompa Capisci? Vedi che adesso penso Mi finisca infatti sì Perché io sono riuscito A uccidere l'altro Ma c'era lui vicino Vabbè però hai visto la zona Ascolto osserviamo Ma guarda che continua Esatto Osserviamo fino alla fine Vediamo dove è Creep Ah Creeper sta tutto su Bravissimo Bravo Bravissimo Beh che magari ce la fa Creeper Aspetta vado a vedere Creeper Bravissimi Guardali come finisca Adesso Adesso vedi quanto chiude Fede Adesso vedi quanto chiude È una roba assurda eh Preparati perché è una roba assurda Nel mentre Sotto c'è la guerra C'è il finimondo È finita È finita completamente No vabbè ma alla fine Guarda che è andato bene Steph Sì Erano solo tre Questi due Palermo e quest'Italia Fresh Perché alla fine sono solo loro Che hanno fatto il caos No il Palermo mi sa che erano tre Non lo so adesso Vabbè io ne ho visti No ne ho visti due Perché come Il team Palermo Come ne ho ucciso uno Mi è arrivato l'altro Sicuramente saranno due fratelli Guarda quanto è piccola la zona È fantastica Faccio vedere io tranquilli Sì infatti ti stavo guardando Dai Creeper Sei tutti noi Dai Creeper ce la fa Creeper ce la fa Questa è la nuova zona Quelli che non sparano Non uccidono Guardate un pochino intorno Che voglio vedere quanto è grande Cioè guardate È minuscola È un cerco È grande niente Voi pensate Voi pensate che ce ne sono Quattro qui E altri otto sotto In questo esatto momento Ci sono dodici player vivi Sarebbe stato bello Essere almeno in cinquanta Quindi quello Lo ammetto Però secondo me Siamo riusciti a vedere La super mini zona Guarda che ora ti chiude Ma davvero Ma è più piccola di così Non finisce così Fino a quando non ci sta Un solo player dentro Oh mio dio Dai speriamo È ripartita la guerra sotto Eh vabbè però sono altri adesso Quindi è un po' Vabbè se si uccidono quelli sotto Questi sopra Sono pacifici A noi piacciono questi Arriva Adesso c'è la zona dove ci sta Un solo player mi sa Preparati Cerca di starci dentro Grande Guarda 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 Guardi che ce l'ho fatta vedere No 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 Riparate Riparate Dai dai Guarda Guarda la zona Guarda la zona Guarda la zona No Oh mio dio È un solo uno è vivo Guarda Vedi Vedi Grandissimo Grazie Grande Grande Che almeno ci ho fatta vedere Grande E hanno vinto un team Che non sono i Palermo Quindi sono doppiamente felice Sono doppiamente felice Ce l'abbiamo fatta È stato incredibile Guarda Tanto l'importante era Riuscire a vedere la zona così piccola Quindi grazie Creeper Che comunque sei riuscita a farcela vedere Grazie a tutti quelli che hanno partecipato Una delle tre follie è andata Non hanno ucciso tutti gli altri Quindi grazie È stata una vittoria Ce l'abbiamo fatta Grazie a tutti